Oggi dagli studi di Tivusiti vi vogliamo raccontare una storia, la storia di Maddalena Artucci, di Torre del Greco e di suo figlio Enrico. Una storia di dolore, una storia di disagio, un dramma per questa famiglia e soprattutto per questa mamma che oggi ha il coraggio di essere qui, di raccontarci la sua storia, di condividerla con gli altri e di aiutare anche gli altri che si trovano nelle stesse situazioni. Il figlio di Maddalena Enrico è affetto da tempo da disturbi psichiatrici e Maddalena si trova costretta quotidianamente ad affrontare numerose difficoltà per questo, soprattutto perché spesso manca la continuità nell'assistenza perché spesso chi sarebbe deputato ad aiutarla purtroppo non riesce a far fronte alla situazione. Maddalena, raccontaci il dramma che tu vivi tutti i giorni. La situazione poi si è gravata ancora ad agosto, peggio ancora, con i medici che non c'erano. Il mio medico di base che era morto purtroppo, il dottor Ragazzone a novembre, una peripezia che tu Antonella sa e mi ha aiutata anche allora per avere un medico. Enrico è seguito dall'ASL? Diciamo che è stato seguito saltuariamente dopo la pinarella perché non ci sono medici al bottazzi e non ce ne saranno altri secondo me. Tante persone stanno al mio livello, per questo sto anche qua, non solo per me. La mia è importante come storia, ma forse qualcuno può penetrare nella mia, chi sta nella mia stessa situazione, non ha il coraggio di poter parlare. Proprio una sofferenza sia a vedere Enrico affetto da questa malattia da anni, ma giustamente ti preoccupi per la sua incolumità e per quella anche delle altre persone. Sì, poche settimane fa mio figlio si è avvelenato, ho chiamato l'autobulanza di corsa perché abbiamo nascosto i medicinali, li teniamo noi, e non so come ha fatto a scoprire le En, due scatole, da due millicrami li ha presi tutti quanti. Anche ho chiamato l'autobulanza, dopo che me lo sono accorta, e mi fanno al telefono, c'è un medico, fra due o tre ore ve lo mandiamo, l'autobulanza. Aspetto le due ore e mezza, le due ore arrivano, arriva un ragazzo, un infermiere e un portantino, e come entra dalla porta questo portantino? Io, le stessuali parole, lo devo dire per forza, io sapevo che era questo cretino scemo che chiamava, no non stai chiamando questo scemo, ci stai chiamando mamma, cioè a questo punto qua che vi devo dire, va vattene, o se non vuoi fare il tuo vestire, va vattene. Ed è una situazione assurda, che su un'autobulanza non ci sia un medico, l'emergenza che hai vissuto tu? Non è la prima emergenza, ti dico, altre volte abbiamo chiamato per l'emergenza che Enrico ha tentato, perché tre giorni dopo Enrico si è tagliato la fonte pieno di sangue, sono venuti carabinieri a casa, sentono pure loro tutta la tragedia e mi dicono, vabbè, passiamo alla polizia municipale, la stessa cosa mi è capitata con loro, mi fa uno, sì sì signora, vabbè, facciamo una cosa, mi chiamate domani mattina e vediamo di mettere l'assistente sociale in gioco, chiamo la mattina dopo, alle nove, e mi risponde, la sera porta consiglio, non vi possiamo aiutare, se no al massimo potete andare voi all'assistente sociale, sono stata, ci sono stata. E che cosa ti hanno detto? Mi hanno dato questo foglio da riempire, cosa che ho domandato all'avvocato, non lo posso riempire da solo, devono fare loro? Lo mostro se vuoi, loro devo riempire questo foglio per fare un tutore a mio figlio, perché da sola non ce la faccio più. Hai ragione, è un foglio che dovrebbe riempire l'assistente sociale e poi mandarlo all'asel direttamente, da lì poi vedere se ci vuole il giudice e mettere un tutore al mio figlio. Quindi tu per legge puoi avere un tutore, una figura che si prenderebbe sicura, quindi ti potrebbe affiancare nell'assistenza, perché giustamente i familiari purtroppo di persone che vivono questi disagi di natura psichica, psichiatrica, non riescono a gestire. Non è facile, non è facile. Cambiano. Sempre il consegno dei servizi sociali, dell'asel. Allora io vorrei dire una cosa, io capisco che c'è il covid, c'è tutto oramai, ma non ho capito perché dobbiamo essere abbandonati tutti quanti. Essere abbandonati dallo Stato in sé e questi, io parlo già da chi sta sopra a Roma, andare a finire qua, dove proprio non c'è nulla a Torre del Greco, no, proprio la campagna è morta. Una madre da sola non ce la posso fare? Non ce la posso fare, ha preso i vinciti del gioco adesso e noi non sappiamo più come aiutarlo. Io mi vedo disperata. Nei tuoi occhi, nella tua voce, nel pianto di oggi, si vede tutta la disperazione. Io sono stanca. In questo momento l'asel lo sta seguendo? Dopo che cosa, quante perivezie ho dovuto fare, ringraziando te che sei entrata in gioco al mese di agosto, che mi hai fatto avere il medico là perché non c'era. Ogni volta che mio figlio andava da un medico, cambiavano questi fogli. Ogni foglio che ti cambiano di questi qua. Questa è la terapia? È una terapia. Le più piccole cose ti vengono costate 180, 200 comprese, perché non le passa l'asel. Questa è un'altra cosa assurda che io non concepisco. Quindi lui deve prendere dei farmaci che non sono prescrivibili? No, non sono prescrivili, ci sono prescrivili e alcuni no, però costano tanto. E io credo e penso che un medico che segue un ragazzo riesca poi a capire quello che va bene e non va bene, che poi si cambia la terapia con piccoli passi, con piccole cose. Secondo lei i pazienti in queste condizioni possono essere curati a domicilio o devono stare presso delle strutture? No, io penso che ci vengono presso delle strutture. Assolutamente ci devono stare delle strutture che vengono in aiuto ai genitori, ai familiari. Io cerco aiuto, ci devo bussare, ditemi voi, io non so dove andare più. Però mi diranno domani, se è stata sui giornali, si fanno la risata. A me non mi importa. Forse potrò aiutare qualche altra famiglia, qualche altro ragazzo, qualche altra ragazza che sta nella stessa problematica. Io, dopo c'è chi non ci riesce, vengono nascoste per vergogna, per paura. Vi dico una cosa, abbiate il coraggio di parlare perché solo così potete andare avanti. Vi chiedo aiuto, un appello proprio grande. Iniziando da Roma, è qualcuno, il Ministro della Salute che venga qua. Perché io sono andata anche da Giovanni Palomba, non si può entrare dal sindaco. No, no, i cittadini non li vuole. Arriverà a darci una mano prima che mio figlio ci muoia in qualche cosa. Noi ci auguriamo che come emittente televisiva possiamo aiutarti. Che chi, che chi, possiamo far veicolare questo messaggio, che chi veramente è deputato per le sue competenze ad aiutarti, l'ASL, la salute mentale. Deve entrare in gioco. Deve entrare in gioco. L'amministrazione comunale entra in gioco. Deve entra in gioco. Per te e per tutte le famiglie che vivono lo stesso dramma. Per tutti i ragazzi che vivono. Ce ne sono stati i drammi. Ce ne sono stati i drammi. E l'ultimo è stato poco tempo fa. Mandalena, io ti ringrazio per essere stata oggi qui nei nostri studi per aver raccontato con coraggio la tua storia, il tuo dramma, la storia di Enrico. Il nostro auspicio è che il tuo messaggio arrivi a chi può veramente aiutarti. Aiutami Antonella come stai facendo non mi abbandonare di supplico. E vi ringrazio a tutti quanti voi e a tutto lo staff. Ti prego. Grazie. No, grazie a voi.